Coronavirus, nuovi scenari. Si è appena concluso l'incontro tra il prefetto di Perugia, Armando Gradone, e i sindaci sull'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri pomeriggio, durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, è stato infatti il prefetto, insieme alle Forze dell'Ordine, alle autorità civili e sanitarie e alle categorie associative, a fare il punto sull'andamento dei contagi, definendo gli indirizzi per l'applicazione delle misure introdotte dal decreto del 13 ottobre. Il prefetto Gradone ha ribadito la necessità di trovare un equilibrio, da un lato, tra le esigenze della vita di relazione e quelle degli operatori economici, e dall'altro quello di tutelare la salute pubblica, evitando il formarsi di assembramenti, in particolare nei centri commerciali, nelle zone della Movida, nei parchi e alle fermate del trasporto pubblico. Ha poi ringraziato i cittadini e gli operatori commerciali per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati finora. Sono incontri che servono a condividere gli indirizzi applicativi delle nuove normative introdotte dal governo, ma servono, a mio avviso, soprattutto ad un'altra cosa. E si instauri anche una sinergia piena, costante e completa tra sindaci, prefetto, forze di polizia e il sistema sanitario.